Da oltre 40 anni, vestiamo i grandi campioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Gianmarco Bagnoni di Forza Nuvolento e conquisti la maglia di campione provinciale bresciano. Sì, oggi è stata una corsa molto tirata, tanti scatti, i miei compagni hanno lavorato alla grande. L'ultimo giro sono riuscito a fare un'andatura buona e dopo la volata penso di averli ricompensati di tutto il loro lavoro. Grazie per la visione! Grazie per la visione!